Ho dato il 5 per 1000 all'Istituto Storico di Modena. Ho fatto questa scelta perché penso che sia importante contribuire alla presenza sul nostro territorio di un istituto che si occupa di storia e di ricerca storica. Ma ho dato questo contributo anche perché penso che sia importante il lavoro che l'Istituto svolge nei confronti delle scuole modenesi, sia per la formazione dei docenti, sia per l'accoglienza, la proposta didattica e le attività che l'Istituto svolge nei confronti degli studenti. Penso all'importanza dei viaggi della memoria sui luoghi della memoria storica europea. Penso ai momenti di formazione e di riflessione storica importanti. E' per questo che io sono soddisfatta della scelta che ho fatto.